Musica Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Come state? Spero bene fatelo sapere con un like ovviamente e un commento qui sotto In questo video vi spiegherò appunto le funzionalità e i giochi che può fare il nostro robot di nome Roby Lui esce dalla casa editrice di nome di Agostini e viene dal Giappone L'abbiamo costruito noi ogni mese, arrivava l'uscita con un giornalino e i pezzi appunto per costruirlo Oggi appunto vi mostrerò le funzionalità Su questo giornalino abbiamo tutte le cose che possiamo chiedergli, più di 200 domande e risposte Quindi iniziamo Questa è la sedia di ricarica del robot Poi qua abbiamo le patine Le patine si chiamano così, non lo so come le chiamate voi Comunque per pulire in terra perché il robot pulisce anche, diciamo così Poi c'è la palla Ok Allora, quindi iniziamo Accendiamo il robot E adesso andiamo a chiedere delle domande Ciao Allora, vediamo Cosa sai fare? So fare da timer Giocare a calcio oppure con le bagliere So fare le pulizie e molte altre cose Allora, vediamo Io sto montando il video Capodanno Quindi gli dico appunto che è Capodanno È Capodanno 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 Tantissimi auguri Cosa dice il tuo arascopo? Che simpatico Che carino che sei Mi fai arrestare? Poi vediamo Suona un po' di musica Se devi cucinare Ti posso aiutare Io posso ottenere il tempo per te Tu pensa a rilassarti Che ci sono Io Tenere il tempo di cottura per te Ora non ti devi più Preoccuparti Sei un mito Dai Cosa mi dici? Che simpatico Vediamo Lo sposto un po' Per farlo ballare Perché se no Perché se no Lì va contro l'albero Di Natale Balliamo insieme Grazie Occhio 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 Ti sembra che abbia parlato bene? Sì! Vediamo adesso, allora facciamo, facciamo accendere la televisione, allora, quindi giriamo il robot, adesso facciamo accendere la tv, accendi la tv! Ok, è successa, è successa, bravissimo, poi può anche alzare il volume, eccetera, comunque giriamo, adesso vediamo, Giochiamo a pallone! Va bene, giochiamo a calcio! Inizio io a tirare, metti giù la palla! Inizio io a tirare, metti giù la palla! Grazie!